Bene, fine partita anche con un giocatore della Robru, Joseph Caminiti, 1-1 l'autore del gol, un punto importante per la Robru visto che è il secondo pareggio stagionale. Sì, un punto importante, però per com'è andata poi rimane un po' la mare in bocca, abbiamo preso l'incrocio dei pali su punizione alla fine e gli ultimi 15 minuti li abbiamo costretti praticamente nell'area di rigore. Peccato perché la reazione forse è stata un po' tardiva, magari dopo il gol siamo riusciti a sbloccarci un po', prima era un po' tesi. Agonisticamente è ancora Caminiti però non è a posto visto che viene dal matrimonio. Sì, io mi sono sposato il giorno 10 di settembre, quindi ho iniziato la preparazione subito dopo il matrimonio e quindi loro già da metà agosto corrono, io sono arrivato un po' più in ritardo e quindi ci mettiamo in forma, non è un problema, piano piano. Però l'esperienza ha servito a qualcosa visto che il gol è stato un po' una furbata, la tua furbata. Sì, c'era questa punizione a 30 metri dalla porta e durante la partita l'arbitro più volte ripeteva sempre, diamo spazio, diamo spazio a chi batte. Il loro portiere probabilmente non ci ha fatto caso, era sul dischetto che dava indicazioni ai compagni, l'ho visto e ho calciato diretto senza aspettare il fischio. Parlando dell'aspetto tecnico della partita, al centrocampo della Robru c'è da cambiare qualche cosa? Non può continuare così? Noi siamo una squadra, innanzitutto ancora non amalgamata, perché Cambria, Romeo, io e altri ragazzi siamo arrivati solamente da una settimana. Abbiamo fatto una partita, una bella partita a Messina con l'F24 e adesso questa è la seconda partita. Sicuramente dobbiamo migliorare qualcosa, però spesso questi automatismi sono figli del lavoro, dell'allenamento, quotidiano. Quindi non credo che ci vorrà ancora molto prima di vedere la vera Robur.